E' terminato l'incontro, 2 a 1 a favore dell'Ottona, una gara sfortunata, come al solito l'arbitro ci ha messo il suo zambino, come gli altri suoi colleghi dell'AIA di Lanciano. Lo so 2 a 1, però con il rigore, 2 a 1, ma è buono questa volta, dopo voglio vedere quante piangete dopo, che non puro sforzo, che non puro sforzo in questo senso.